benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e quello di oggi è l'episodio di agosto di mattoni alla riscossa la nostra irriverente divertentissima rubrica dove io cerco di dimostrarvi quali branchi di disperati incontro spesso ogni sera nelle mie avventure tra i mari di world of warship è una rubrica che ogni tanto ha diviso qualcuno perché c'è chi la prende in maniera corretta in maniera ironica chi invece si sente quasi risentito per questo perché magari ci divertiamo un po a sbeffeggiare qualche sbarbatello del gioco però effettivamente una volta al mese un video irriverente dove prendiamo un po in giro qualcuno perché non sa premere wasd sulla tastiera dai dovete anche un po concedermelo comunque siamo qua su heaven episodio di agosto satsuma in versione doppia con edgar contro satsuma main e a napoles dall'altra parte preparatevi al peggio due divisioni per squadra perché comandati questa partita non vedrete come nelle altre volte magari uno o due giocatori protagonisti di mazioni pacconate no no questa volta vedrete un'intera e gigantesca flotta che commette una serie di assurdità dietro l'altra ecco perché il titolo di questo episodio di agosto è blizzard e la flotta fantasma blizzard e la flotta fantasma siamo qui con la libertà di questa nuova super mega gigantesca corazzata che chiamo anche la chiatta perché è bruttissima in questa serie di batterie da 2 34 e 127 che sono terribili ma come dati sono potentissime con questa mimetica tartorta marrissima silver che si può ottenere scioppando acciaio oppure semplicemente arrivando con la limitica silver e ben argento della lega argento della ranker se notate subito potrete sicuramente vedere qualcosa che anche voi avete già visto tante volte nel random battle di world of warships ebbene sì la squadra va tutta da un lato tutti dall'altra parte quadri col cap domination di heaven a diamante in diagonale tu vorresti dire blizzard ma è una mappa facile bisogna giocare al centro prendere i cap e fare a sportellate lì in mezzo tecnicamente sarebbe così una persona normale dovrebbe dire questo è quello che vuole la wargaming perché comunque a b c e d c e b sono in mezzo paralleli a è già nostro è lì che dovremmo giocare noi in mezzo no loro vanno dritti per dritti tutti a sud guardate un po contate lì insieme a me su quelle mini mappa sono io conto tre navi da battaglia anzi quattro navi da battaglia due incrociatori un sommergibile due destroyer tutti dall'altra parte di qua il solito piccolo disgraziato blizzard da solo con il suo con la sua libertà contro lusci un oltre che una gigantesca forza avversaria che doveva fare i conti praticamente con queste situazioni pacchiane perché g da già abbandonato comprimenti a hogger 41 69 che è stato affondato dopo neanche tre minuti di partita da un lusci un tecnicamente g dance soffre un porto di fuoco del fortissimo diciamo destroyer nel combattimento di contro di pan asiatico però tecnicamente gita sa e va un radar ma lui non l'ha saputo usare il napoli che sarà un bruttissimo cliente nel corso del match decide di andare in kiting intelligentemente perché vuole evitare di fare a sportellate noi siamo molto più grossi pesanti e cattivi ovviamente il mio terrore qual è quello che il lusci un abbia lanciato i suoi maledettissimi siluri di profondità oltre al fatto che si notate dalla mini mappa in p noto è spuntato un piccolissimo shimakaze una nave che mette in acqua qualcosa come 15 torpedo assassini e sapete benissimo che con una cortata come questa che è un al sonar ha un ottimo timone ma è molto molto lenta non è facile staccarsi vettura spavaldo apre il fuoco non non aspettavamo altro e giu legne sullo shimakaze il nostro è destra sono già morti entrambi guardate un po io ho già perso dopo neanche quattro minuti l'intera squadra che poteva supportare mentre guarda un po la flotta fantasma continua il suo avanzamento a sud la cosa assurda è che dall'altra parte seguire dicendo qualcosa come nove navi nove comandanti nove navi dall'altra parte contro il nulla contro 23 navi eppure non riescono a sfondare perché sono tutti la fermi in più o meno e 3 f3 in una sorta di sagra della salamella gestita dalla unità insieme a prodi e tutti gli altri lì in mezzo a festeggiare il centrosinistra e quindi di conseguenza pane salamella per tutti come reggiolo e e noi da soli qua a soffrire e ho disperato cerco di tirare l'attenzione ragazzi guarda che forse è il caso di tamponare un po perché non ce la faccio gestire quattro navi da solo cinque navi da solo è un po difficile libertà è molto forte ma cinque navi contro uno effettivamente è una cosa un po un po difficile anche perché una di queste è il main giusto per una piccolissima nave che non è per nulla forte no 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 che ci scaraventa addosso una pioggia di piombo da 406 noi da soli qua con lo shimakaze che ci insegue il luscio un poco più dietro il main la mecklenburg e c'è anche il napoli cioè non manca più nessuno ci sono tutti l'altra parte invece quella flotta gigante che sta camperando contro una corazzata ferma dietro un isola è un sommergibile la tassoma affonda la repubblica tra l'altro è una delle corazzate lì parcheggiate e a questo punto dovete debilizzare fatta adesso vedrai che rientrano e ti danno una mano non rosterai da solo per tutta la partita beh no non andrà così purtroppo no no sembra che abbiano mangiato troppo kutsutielli a casa di massif sono facendo indigestione sono tutti dall'altra parte ancora la fermi intanto ragazzi guardate un po in e f3 e 3 tutti la fermi in quella zona a mangiare la salamella e non c'è non c'è modo di spostarli e niente da fare arrivano intanto i suguri dello shimakaze o anzi quelli del napoli svolta quelli di shimakaze sono molto più veloci non è chiaramente il suguri del napoli credo forse non lo shimakaze non so comunque è un lanciatore che passa non sono sicuramente quelli del luciano altrimenti i comandanti li avremmo non visti perché sono dip torpe parte poco mi arrivano intanto le salve del main il mechambo si diverte lo shimakaze continua a tenerci ferma spottati il maledettissimo e poi il napoli poco più dentro che addirittura sta risalendo da cipo e poi farci la festa in un secondo momento qui ero tentato di passare al colpo incendiario però effettivamente sapete com'è il punto centrale del me comunque è quello di una corazzetta americana quindi è particolarmente a grossi strutture i nostri 14 9 possono comunque fare molto male anche se il main comunque sapete che ha delle capacità di assorbimento danni particolari come utilizza il suo consumabile però per quanto riguarda incendi e floating nuovamente le nostre super secondaria in azione tasto f magico del libertad che piacerà tantissimi giocatori di corazzetta mette un po la flotta si muove la flotta fantasma si muove finalmente ha deciso di lasciare la sacra della salamella del direggiolo in e e3 e f3 scende verso addirittura la zona la zona esterna sembra sembrano essere assolutamente non so come come incapaci di ragionare dire ok magari attacco c prendo i due cap 3 contro 1 no invece lo continuano a scendere come se stessero giocando world of tanks una cosa che dico tante volte ad esempio nelle live è il fatto che purtroppo purtroppo non lo dico con antipatia perché mi piace anche il gioco dei carri armati della wargaming purtroppo tanta gente che gioca world of tanks viene a giocare a world of warships e giocano allo stesso identico modo cioè tendono a allargare la mappa cioè fanno praticamente il giro mappa pensano di poter flancare come se stessero giocando un carri armato peccato che le mappe di world of tanks sono molto più piccole e i carri armati sono molto più veloci delle navi queste mappe qua sono gigantesche le navi non sono così veloci a parte il club air il marsoe poche altre gambot e torpedo body world washi di conseguenza fare il board mappa con una corazza non è esattamente come farlo con un carri armato in world of tanks ma loro continuano a giocare nello stesso modo convinti di ottenere gli stessi risultati e sbagliano sbagliano enormemente se guardate ora il main va in disimpegno verso c perché non è pirla lui vuole cercare di avere anche comunque un aiuto di supporto tra le isole in questo penso noi passiamo sul mecklenburg che tra l'altro è anche molto più leggero della potente super battleship americana altre linee ancora notate il danno potenziale il danno tankato siamo arrivati a 3.542.000 è quello sotto il nostro danno in alto a destra 3.542.000 tankati in 8 minuti 8 minuti comandanti per dire le pene dell'inferno che stiamo subendo e ora siamo saliti a 3.659.000 il main accorcia il napoli ora in push verso il destroyer e il impostatore alleato che di fatto comandanti tiene bloccato il cap l'imboccatura del cap di b il nostra flotta intanto fantasma continua la sua azione inutile ora sono arrivati a fare un'altra sagra della salamella in h4 tutti lì compatti in quattro i quattro beoti della divisione e è il submergibile completamente fuori posizione come anche il destroyer e tutto il resto non ci pensano minimamente a difendere a difendere b andare a prendere c no no loro vogliono fare il bordo mappa come se ci fosse una porta aerea da inseguire che in realtà non c'è minimamente in questa partita si chiama di trovare ora è la linea di cittadella del main che però è anche abbastanza inclinato difficile trovarlo con questo tiro anche perché sapete che i cannoni del libertà non sono particolarmente precisi anche se sono comunque belli grossi e numerosi e questo appunto sappiamo che lo shimakaze è entrato nel cap di alfa questo perché se guardate il cap di alfa lo stiamo perdendo qui altro segnale per la flotta fantasma dovrebbe magari tornare indietro ma loro no loro continuano la loro marcia praticamente in tutto le sperdute linee della della linea e della linea h convinti di andare in seguire il nulla sostanzialmente qui alziamo la struttura sempre contro il main mentre siamo saliti comandati a quasi 4 milioni anzi possiamo dirlo 4 milioni di danno potenziale tancato in neanche mezza partita perché la mezza partita l'abbiamo ancora superata nuovamente comandanti il nostro super consapevole di disposizione purtroppo arriva il napoli che è un bruttissimo cliente per noi anche perché in questo momento il napoli ha il doppio quasi dei nostri hp e noi abbiamo esaurito completamente tutti i nostri repair party attorno ai comandanti dopo qualcosa come 4 milioni e 200 mila di danno potenziale era un po' normale che restassimo senza repair party disposizione qui l'rng ci dice male perché arrivano solo 8k il napoli comunque ha delle ottime secondarie che ci fanno molto male ovviamente non posso permettermi di spendere altri punti hp quindi devo spegnere subito l'incendio e lui giù ancora di secondaria a rompere le scatole mi aspettavo un tiro un po migliore sul napoli ma sicuramente l'ha aiutato anche l'ottima armatura dell'eccellente incrociatore italiano qui tra l'altro forse l'ho alzato troppo ma mi aspettavo la virata sinistra che puntualmente arriva il colpo non entra a dovere di conseguenza rimane lì con 3k per secondarie non basteranno per affondarlo siamo arrivati a 4 milioni 700 mila di danno potenziale mentre anche il maldettissimo destroyer apre il fuoco contro noi la vendetta dello shimakaze e purtroppo comandanti l'affondamento arriva abbiamo retto 4 milioni 807 mila di danno potenziale con 32 mila di danno da spotting e 122 mila di danno tankato e questa partita praticamente finisce qua seguiamo un po' quelli che saranno le azioni finali della flotta magica che sta tra l'altro facendosi esplodere uno dopo l'altro stupidamente in push quindi veramente bravissimi tutti loro veramente guardate un po' come sono tutti felici e contenti la partita chiaramente è già persa il nemico ha quasi il doppio dei nostri punti vita ma loro continuano a attaccare zone completamente inutili e sparare contro navi che non c'entrano assolutamente niente magari affonderanno anche il main in questa circostanza ma comandanti la loro presenza a dir poco oscena oscena e purtroppo comandanti giocatori come questi li incontrate tutti i maledetti giorni all'interno di world of warship e quasi sempre quasi sempre i principali artifici di queste manovre folli sono gli stramaldettissimi giocatori di corazzate i giocatori di corazzate comandanti che una volta stimavo tantissimo oggi veramente sono diventati un grosso problema in world of warship e forse ci farò anche un video in futuro dove parlerò dei cruiser e di questi giocatori sono diventati a dir poco imbarazzanti i giocatori di battesci per me sono diventati giocatori che camperano lunga distanza manco fossero dei cacciacarri di world of tanks e fanno uno più schifo dell'altro quando giocano veramente in questa circostanza in questo modo se guardate satsuma e rodale ormai sono praticamente all'osso verranno presto affondate tra l'altro stiamo anche perdendo il cap di bravo il cap di delta sta per essere contesto finalmente da destroy da semmergibili che non si ricordano dovrebbero giocare vicino alle basi non come dei beoti che fanno il bordo mappa mentre la satsuma che ha fatto un bel po di danni ma assolutamente inutili ingaggia il mecklenburg avversario napoli ormai ha quasi finito anche la satsuma alleata che va giù anch'essa il nemico è arrivato oltre 900 punti e tra poco perderemo il cap di bravo la flotta fantasma comandanti veramente guarda bastava semplicemente giocare al centro avrebbe potuto fare quello che volevano potevano alcunearsi su c prendere sui flanking le navi che ci hanno poi inseguito per tutta la mappa sul lato orientale loro no e guardate un po che differenza di punti 931 a 304 comandanti e la partita ormai è arrivata al ridosso anzi ora 980 sono cose che veramente che vi fanno cadere le braccia e fanno capire veramente come la wargame abbia completamente perso e di vista le random battle e il bilanciamento perché queste cose non si dovrebbero vedere la gente dovrebbe essere più preparata quando gioca al tier 10 ma ormai è una battaglia persa 1256 con quasi 5 milioni di danno potenziale se guardate nessuno in c nessuno in chat che si arrabbiava davvero come dei bot comandanti la flotta fantasma 56 colpi di primaria 56 di secondaria 4 incendi team score comandanti siamo arrivati i secondi perché abbiamo fatto un bel po di danno sui destroyer in completo isolamento perché guardate un po jidansk e il nostro amico con qual'era l'altro il sherman ci hanno abbandonato praticamente subito 189 non lo fanno neanche i bot comandanti quando giocano a world of warships dettaglio di rapport piuttosto dettagliato importante guardate un po 4 milioni 807 285 di danno tancato e tantissimo questione che abbiamo tancato tutto questo in circa 10 minuti quindi veramente una mole di danni spaventosi può sopportare questa grande nave tier 10 la iate è arrivato primo semplicemente solo perché ha affondato il submergibile nemico e perché ha preso un paio di cap altrimenti col cavolo che ci avrebbe superato signori questa è la triste storia di blizzard e la flotta fantasma che dire a questo punto possiamo anche passare sul finale di video come sempre vi ricordo che noi siamo online su twitch durante la stessa spero comunque vi avevi strappato una risata con questo video che esce una volta al mese vi ricordo che se volete veramente aiutare il canale se vi piacciono i nostri condotti se veramente volete dare una piccola parte di voi a me al miraglio grigio avete magari amazon prime potete collegarlo a twitch giù nel primo link tra i commenti trovate il link per farlo bastate due clic e legate amazon prime vostro amazon prime a twitch potete abbonare al mio canale per un mese intero in maniera gratuita senza pagare niente potete rinnovare ogni mese sempre in maniera gratuita di mese in mese se volete continuare ad aiutare me l'ammiraglio grigio altrimenti c'è l'abbonamento a pagamento che questo mese per settembre costa 3 euro e 70 veramente uno sputo e se volete veramente dare una mano noi vi aspettiamo perché comunque ci permettono se queste questi piccoli e diciamo sovvenzionamenti mensili ci permettono di migliorare la postazione prendere sempre hardware migliore tra l'altro vorrei migliorare il reparto delle fotocamera e sarebbe un acquisto molto molto importante quindi il vostro supporto sarà sempre bene accetto comandanti spero vi aver fatto ridere almeno con questa volta perché io pianto tantissimo noi ci risentiamo qua probabilmente domenica con il video anniversario di world of worship per il nono anno tra i mari di questo gioco fantastico che purtroppo ora è andato un po una schifezza noi ci siamo qua quindi nel fine settimana come sempre da sottoscritto e dal barone buona caccia magari non con altre flotte fantasma ciao comandanti grazie a tutti